Ben ritrovati per salute e benessere, siamo nuovamente in compagnia dei componenti della farmacia Scarponi di San Costanzo, entreremo ancora più nel dettaglio di quello che è il loro servizio alla clientela e della loro filosofia. Parleremo anche di prodotti in questo appuntamento, prodotti importanti perché c'è anche qui una filosofia di base che avete voluto sposare insieme ad altri colleghi, quindi è un pool di farmacia che mette a disposizione prodotti altamente innovativi. Esatto, come dicevamo nella prima puntata noi cerchiamo di proporre quanto più possibile prodotti alternativi a quelli delle multinazionali, offrendo prodotti che abbiano una garanzia di un certo tipo, sia dal punto di vista qualitativo che anche con un rapporto qualità-prezzo un pochino migliorativo rispetto al momento di crisi che stiamo vivendo un po' da tutti i tempi e vorremmo quindi cercare di andare incontro alla clientela anche in questo tipo di sistema. Abbiamo trovato, così a volte anche per caso, un po' per fortuna, capita di incontrare a volte le persone giuste al momento giusto, quindi abbiamo conosciuto un consorzio di farmacie, questo praticamente questo consorzio di farmacie riunisce altre farmacie che hanno la nostra stessa filosofia e hanno costruito un laboratorio all'interno del quale producono direttamente una serie di prodotti integratori alimentari, prodotti fitoterapici, tutti di origine naturali. Stiamo parlando di un catalogo che oggi ha raggiunto le 250 referenze, inclusi anche prodotti di igiene e di cosmesi, quindi un catalogo assolutamente molto ampio, la cui filosofia, appunto quella che dicevo prima, di avere un rapporto con un rapporto qualità-prezzo estremamente importante. Faccio un esempio velocissimo, poi passo la parola a mia moglie che li conosce meglio di me, in quanto farmacista è quella che li deve poi proporre, il classico prodotto per il colesterolo che trattiamo noi del nostro consorzio, è un prodotto che ha un costo al pubblico di 17,90 euro in confezione da 30 compresse, quando il punto di riferimento del leader della multinazionale, oggi conosciuto da tutti, ha una confezione da 20 compresse e costa 21,50 euro. Quindi riusciamo a offrire un buon tipo di alternativa. Ecco, ci sono anche altri prodotti che voi avete a disposizione per appunto assecondare le esigenze della vostra clientela. Sì, la gamma, come diceva mio marito, il catalogo è ampio. Abbiamo, viene quasi un fermento lattico per tutte le esigenze. Ci abbiamo appunto per equilibrare poi la flora intestinale, ma perché per esempio ha avuto problematiche di diarrea, oppure soffre di colite, oppure perché prende l'antibiotico o perché si deve recare in un paese all'estero. Quindi ogni intestino ha le sue esigenze e noi con i nostri integratori riusciamo a soddisfarle. Tanto che possono essere anche esigenze di carattere digestivo o di gonfio addominale, riusciamo sempre con questi prodotti ad arrivare anche lì. Abbiamo anche una serie di prodotti che riguardano invece il sonno, per chi ha difficoltà ad addormentarsi oppure per chi si risveglia la notte o per chi invece vuole essere sereno di giorno oppure ha bisogno invece di stare più tranquillo perché magari è un po' ansioso. Abbiamo anche un ottimo integratore a base di magnesio e potassio e diciamo che quest'estate ce n'è stata anche abbastanza bisogno visto le sudorazioni profuse e alte. Ottimo prodotto perché ha una concentrazione tripla del più noto sul mercato. Quindi proprio il voler dare ottimi prodotti che col fatto che non hanno pubblicità riusciamo appunto a venderli a un prezzo inferiore. Altre problematiche che possiamo risolvere oppure comunque favorire con i nostri integratori possono essere anche adesso ci avviciniamo alla stagione invernale anche se ancora le temperature sono abbastanza favorevoli e gradevoli. Sono integratori per prevenire quelle che sono le malattie invernali dall'influenza, tossi, raffreddori. Abbiamo degli ottimi prodotti anche in questo caso per rafforzare le difese immunitarie, energetici, depurativi. Diciamo l'offerta è veramente ampia. In questo momento ci si concentra di più verso quelli legati alla stagionalità, dal mal di gola o prodotti per la tosse insomma. Tutti però caratterizzati da un ottimo rapporto costo-beneficio, qualità-prezzo e anche concentrazioni magari nuove, innovative. Sì, 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 anche proprio una selezione di quelle che sono i componenti, le materie prime che ha effettuato appunto il consorzio. E poi c'è un'altra peculiarità di questa farmacia che vedete man mano che la conosciamo mostra tutte le sfaccettature, tutte le varie angolature e naturalmente i servizi che possono essere dedicati alla persona, al paziente e al cliente, che è quella anche della preparazione galenica, che era una peculiarità del farmacista di una volta, no? C'è un ritorno al galenico. Infatti, diciamo, innovazione paradossalmente per noi vuol dire anche tornare indietro a quella che è la tradizione. Molte farmacie negli anni hanno scelto la via più facile, quindi hanno smesso di produrre internamente i farmaci galenici e scegliendo di proporre quelli presenti sul mercato. Noi invece abbiamo fatto la scelta di ritornare e fare un passo indietro allestendo un laboratorio galenico di ultima generazione, moderno, con tutte le attrezzature necessarie per la preparazione di questa tipologia di farmaci e offrire la possibilità di avere quindi delle preparazioni personalizzate, sia su nostra formulazione, ovviamente prodotti tutti di origine naturale, che su formulazione presentata dal medico. Quindi, diciamo, per noi innovazione in questo caso vuol dire anche tornare a fare un passo indietro rispetto a quella che era la tradizione farmacistica di una volta e abbiamo qui il piccolo chimico che abbiamo messo al lavoro per inventarsi qualcosa di nuovo. Allora, ci sono naturalmente preparazioni che hanno già una struttura prestabilita, hanno dei componenti prestabiliti, però insomma il farmacista ha proprio nella sua DNA quello di assemblare. Sì, è proprio la radice della professione. Una volta si faceva solo questo. Poi diciamo, ecco sì, adesso ci siamo adagiati, no, adagiati no, però diciamo sfruttiamo quello che poi ci propone l'industria farmaceutica. Però ci sono sempre delle piccole realtà o delle problematiche regate in questo caso alle persone, per cui diciamo noi da una parte produciamo estemporaneamente quello che poi ci richiede il medico su una proprio precisa ricetta. In questo caso sono proprio prodotti, infatti vengono chiamati magistrali. Inoltre posso andare invece anche a scartabellare le varie farmacopee, sia quelle italiane, sia quelle invece di uno Stato membro europeo, per trovare formulazioni che posso proporre alla mia clientela. Per esempio in commercio produco un gel antinfiammatorio che in commercio c'è all'1 o al 2%, in questo caso io lo produco al 3%, quindi do un qualcosa anche di più efficace, allo stesso prezzo e con un quantitativo con circa un 50% in più di prodotto rispetto al suo, a quello presente in commercio insomma. E oltre a questo, sempre in queste farmacopee, io posso, scelgo anche delle formule da proporre ai nostri clienti, le formule salutistiche, anche questo con ingredienti naturali, come per esempio facciamo un ottimo drenante che consigliamo a chi magari fa uso della pilola anticoncezionale che notoriamente dà una certa ritenzione idrica e quindi della cellulite. Queste gocce, questi drenanti favoriscono il naturale, l'eliminazione dei liquidi in eccesso insomma. Un'altra cosa che possiamo fare in laboratorio, per questo viene visto anche come servizio, possiamo far sì che se a un paziente, è capitato a una nostra cliente, non riusciva a prendere delle compresse, ho prodotto delle capsule di modo che la medesima formulazione potesse essere per lei utilizzabile insomma. Quindi in generale è anche questo, questa rivalorizzazione del laboratorio è vista ancora una volta come un servizio verso la nostra clientela. Una personalizzazione della terapia e spesso insomma tornare al passato non sempre vuol dire avere un regresso, anzi molte volte si va verso una maggior utilizzo di risorse che abbiamo a disposizione a vantaggio dei clienti. C'è una linea anche dedicata ai bambini che è una linea importante per voi perché parla di una fascia di clientela quanto mai cara a tutti noi. Allora diciamo ovviamente partendo dal fatto che noi due abbiamo due bimbi piccoli quindi conosciamo la problematica, quindi siamo i tester ufficiali di ciò che proponiamo alla nostra clientela in quanto valutiamo in prima linea. Un discorso che noi invece facciamo veramente importante ma avevamo già sposato da tempo, essendo i bambini il futuro del nostro paese, della nostra generazione, abbiamo scelto di tenere solo ed esclusivamente prodotti di origine biologica e naturale. Quindi abbiamo sposato una linea, in questo caso noi facciamo il marchio, si chiama IP, la troviamo lì sulla destra negli espositori, è una linea di alimentazione completamente e totalmente biologica. Quindi tutta l'alimentazione naturale che proponiamo ai bambini ha esclusivamente di origine biologica. Nel tempo questa linea si è evoluta proponendo anche detergenti, sempre per bambini, anche questi di origine biologica, eliminando tutta una serie di allergeni, di prodotti che spesso trovavamo anche in altri prodotti di marca importanti. Bene, e allora visto che la bellezza è anche parte integrante di questa farmacia, perché no facciamo un focus anche sui prodotti di bellezza, sul make-up. A conferma di quanto detto in queste e nelle puntate precedenti, vi presentiamo ora quelle che sono le nostre scelte, in fatto di prodotti per la cosmesi, per il make-up e per la salute e il benessere dei nostri piccoli. Per quanto riguarda il make-up, non potevamo non scegliere una linea biologica certificata. Lo abbiamo fatto selezionando i prodotti della Narei. In Italia la certificazione classica, utilizzata dalla maggior parte dei produttori di cosmesi biologica, è la ICEA. Narei ha scelto invece di andare oltre, certificando i suoi prodotti e la sua intera linea di produzione con un ente certificatore europeo, con regole molto più restrittive, a garanzia della qualità del prodotto. Si tratta della certificazione Cosmos e per ottenerla sono stati necessari alcuni anni di preparazione. L'azienda ha fatto scelte radicali e grazie a queste ha raggiunto un livello di qualità che oserei dire estremo. Per farvi un esempio, tra i nostri rossetti non troverete il rosso acceso, quello tipo Chanel, tanto per intenderci. Questo perché per ottenere un colore così vivo e brillante è necessario utilizzare la cocciniglia, ovvero un composto colorante ottenuto dalla triturazione del guscio delle coccinelle. Non esiste un altro metodo per ottenere questo colore. Narei ha scelto di essere differente ed eticamente avanzata rispetto ad altre aziende, anche rinunciando ad un colore tra i più diffusi nei rossetti. Sempre per farvi meglio comprendere quanto la filosofia di questo make-up si sposi alla perfezione con quella della farmacia Scarponi, basti pensare che le confezioni dei prodotti sono in plastica vegetale e riciclabile. Non contengono quindi elementi a base di silicone o sintetici chimici in generale. Questa è una linea di make-up talmente particolare ed esclusiva che in tutte le marche siamo solo due farmacie ad averla scelta come linea principale per la bellezza delle nostre clienti. Per quanto riguarda la Cosmesi Viso e Corpo, abbiamo selezionato nel tempo un'azienda artigiana italiana alla quale abbiamo affidato il compito di produrre diverse linee complete di prodotti specifici per la nostra farmacia e per la nostra clientela. Tra queste troviamo un'ampia selezione di creme idratanti giorno-notte, anti-età, anti-rughe, contorno-occhi, emulsioni idratanti corpo, esfolianti e diversi altri prodotti fatti su misura per noi, con la cura e l'attenzione che solo un artigiano italiano può dedicare ai prodotti che noi proponiamo. Ultima, ma non per importanza, è l'attenzione che poniamo al mondo dell'infanzia. I bimbi sono più delicati, lo sappiamo tutti, necessitano di attenzioni e cure più attente e amorose. Rappresentano il nostro futuro ed è giusto occuparsi di loro nel migliore dei modi. Abbiamo scelto di dedicarci ai nostri piccoli esclusivamente in maniera biologica, scegliendo la IP come linea per l'infanzia, riconfermando di fatto la filosofia generale della farmacia Scarponi. Ovviamente la prima scelta a tal riguardo vale per la loro alimentazione. A partire da pochi giorni dopo la nascita fino allo svezzamento e oltre, la nostra proposta contiene latte in polvere, creme, omogeneizzate di carne, pesce, verdure e frutta, nonché succhi e merende le cui origini delle materie prime provengono da culture o allevamenti esclusivamente di origine biologica. Per quanto riguarda la pulizia e l'igiene dei bimbi, troviamo sempre prodotti dalla IP, anch'essi creati usando materie prime da cultura biologica certificata. Tra questi ci sono shampoo delicati, creme viso per la protezione dal freddo, detergenti delicati per fare il bagnetto con le bolle e diverse altre piccole chicche molto particolari meritevoli di attenzione. La IP è una ditta tedesca che fa della qualità il suo vanto principale. Grazie a degli accordi che premiano il nostro investimento nei confronti di questi prodotti, abbiamo ottenuto delle condizioni di vendita particolarmente favorevoli. Grazie a queste riusciamo infatti a proporre alla nostra clientela un prezzo molto più basso su questi prodotti rispetto a quello che si trovano negli scaffali della grande distribuzione. E questo era l'ultimo appuntamento di salute e benessere con i componenti della farmacia Scarponi di San Costanzo. Sono tutti quanti a vostra disposizione se volete approfondire le tematiche che abbiamo affrontato in questi appuntamenti. Speriamo di avervi dato nuovi spunti e nuovo interesse per venire a visitare la farmacia che ha una nuova concezione di servizio alla clientela. Grazie per la vostra attenzione, alle prossime!